Salve a tutti, ben ritrovati. Allora, come di certo saprete, il 25 gennaio uscirà Resident Evil 2 Remake. Oggi siamo qui, sulla pagina di Gamespeed Italia, per parlarvi delle nostre impressioni in merito alla demo che è stata recentemente rilasciata da Capcom. Allora, la demo di Resident Evil 2 Remake, da quanto abbiamo potuto provare, sinceramente ci ha impressionato. Primo perché il lavoro svolto dalla software house giapponese sul comparto tecnico è veramente impressionante. Noi abbiamo provato la demo su PlayStation 4 Pro e schermo 4K. Dobbiamo dire che siamo rimasti molto impressionati. Ecco, la modellazione poligonale è ricchissima di dettagli. Il motore grafico di Resident Evil 7 utilizzato per la creazione di questo remake è qualcosa di impressionante. in questo remake, sia per gli effetti di luce e ombre che è in grado di gestire, sia per la quantità di dettagli che è in grado di proporre su schermo. Per cui, tecnicamente molto molto bello, il gameplay da quanto abbiamo potuto provare e sperimentare ci ha convinto parecchio. Insomma, è stato ben ammodernizzato, ben ammodernato. Insomma, è stato fatto un ottimo lavoro su questo remake, almeno stando alle impressioni che ne abbiamo ricavato noi dalla demo. Che poi, attenzione, è un remake quello di Resident Evil 2 che sta per uscire, non un remaster. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il gioco non è stato semplicemente aggiornato graficamente, ma è stato rifatto praticamente da zero. Per cui, ci sono dei contenuti in più rispetto alla versione originale del gioco. PlayStation 1 è uscito 18-20 anni fa su PlayStation 1, quindi, insomma, non è un semplice remaster per cui il gioco e lo stesso hanno cambiato solo il comparto tecnico. No, in questo caso parliamo di un remake, quindi di un rifacimento del gioco partito da zero e con dei contenuti in più rispetto alla versione PlayStation 1. Per cui, ecco, non è da sottovalutare questa cosa. Non stiamo parlando, appunto, di un remaster come può essere la remaster di Heavy Rain. Ecco, non stiamo parlando di un semplice remaster, qua stiamo parlando proprio di un rifacimento totale del gioco. Un rifacimento dove Capcom, per fortuna, è riuscita nel difficile compito di mantenere intatti i capisaldi del franchise, e comunque è riuscita nel difficile compito di riuscire a riproporre in chiave moderna un classico del passato. Nonché uno dei capitoli più amati del franchise di Resident Evil, perché il franchise di Resident Evil è in una situazione particolare oggi, perché è da poco rinato, grazie al lavoro che la software house nipponica ha fatto sul 7, però era un franchise finito nel limbo, cioè che si era un po' perso per strada. Invece, per fortuna, grazie al settimo capito, Capcom ha ritrovato quei valori produttivi che aveva perso un po' per strada. Diciamo così. Quindi, tornando comunque al discorso sulla demo, la demo ci ha lasciato delle ottime impressioni, quindi non vediamo l'ora di provare il gioco finale che uscirà la prossima settimana, il gioco finito che uscirà la prossima settimana, e restate con noi per tutti i futuri aggiornamenti riguardo a Resident Evil 2 Remake. Alla prossima!